Ciao amici, bentornati in questo nuovo video. Siamo alla fine dell'evento della fortificazione, evento concluso con un milione di punti, veramente veramente pochi, però è stato proprio il massimo che sono riuscito a fare, perché forse, ma già 1 e 2 avrei dovuto perire comunque di più, perché ho aperto già una trentina di casse oro, quindi per arrivare a un milione, ma partivo veramente con pochi giorni, più di questo veramente non potevo fare. Nonostante tutto, però, ci siamo classificati con un buon punteggio team, settimi, quindi comunque stiamo migliorando, anzi siamo migliorati oramai, e per il resto io sono riuscito a fare 5 livelli, diciamo, questo proprio l'ho fatto al pelo, 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 partiva anche dal 201 abbondante, quindi in realtà ne ho fatti, diciamo, anche 4 e mezzo, che corrisponderebbero comunque ai vecchi 10 o 11 livelli, perché in realtà sarebbero 12, 12 e mezzo, 5 livelli, ne avrò fatti 11, via. Quindi, comunque, non malissimo, ecco, per quanto riguarda i livelli. Ho alzato soprattutto qua, quindi i fulmini dal 31 al 36, questa qua dal 28 al 32, quest'altra in costruzione mi pare al 38 ed era al 32, se non sbaglio. E qua dietro ci abbiamo due al 40-41, ah, è giusto, e anche questa torre qui sto facendo al 41, il resto, se non sbaglio, sono tutte al 41-41, sì, insomma, più o meno, ecco, è così. Per quanto riguarda il prossimo evento sarà il re della collina, quindi quello dove ci saranno le fortezze da prendere, quella in alto, grande, poi sempre quelle più piccole, e più si darà una fortezza, più si faranno punti per il team, e così via. Insomma, però, penso sia un evento noto praticamente a tutti. Volevo parlare un secondo, anche, di un messaggio che è arrivato questa notte, che dice che per garantire un bilanciamento delle lege faremo degli aggiustamenti. Diciamo adesso, dovrebbero cominciare più o meno adesso, e l'azzeramento della lege al posto di esserci di solito, cioè il mercoledì mattina alle 9, alle 10, ci sarà il martedì sera, 12 ore prima, quindi alle 9, alle 10 di martedì sera. Questo cosa succede? Cioè, cosa comporta più che altro? Io credo che il bilanciamento intendano modificare proprio le lege. Secondo me c'è la possibilità che implementino una nuova lega, o, allora, ci sono due, diciamo, due pensieri. Sul forum avevano detto tempo fa che avrebbero messo un'altra lega diamante, che non so se era al pari dell'altra lega diamante, quindi ci sono due leghe diamante che sono al pari, come le lege zaffiro ad esempio ce ne sono 50, e ognuno può capitare in una come in un'altra, e quindi faranno due lege diamante parallele, oppure faranno due lege diamante anche in sequenza, ma non credo, perché comunque non ce ne sarebbe modo. La mia idea, più che altro, è quella che implementeranno una lega garnet, o meglio, io spero che implementino una lega garnet, quindi una lega intermedia tra la zaffiro e la diamante, perché, ad esempio, ci sono molti team, qua se vado a vedere nella nostra lega, noi siamo con 1636, i primi hanno 1868 e gli ultimi hanno 1003. Se, ad esempio, vado a vedere qua, ecco, alleanza sono in 45, e vabbè, sono tutti livelli qua, a parte 1 sono sopra il 100, poi tutti 80, 70, 60, già nella prima pagina. Se vado a vedere il primo, ecco, 300, 200, 190, sono tre volte tante, cioè nel senso non c'è proprio, sembra che ci siano 5 lega di mezzo tra gli ultimi e i primi. Quindi, secondo me, c'è bisogno di mettere una lega intermedia, perché c'è troppa differenza tra i primi e gli ultimi. Cioè, i primi arriveranno sempre, non dico primi, però magari tra i primi tre o i primi quattro, in evento, ad esempio, e gli ultimi arriveranno sempre tra gli ultimi quattro. Quindi, bene o male, non ci sono grossi cambiamenti. Cioè, per carità, il gioco è... cioè, il gioco che funziona così. Però, mettere una lega, diciamo, intermedia permetterebbe di smistare un pochettino la lega Zaffiro, quindi di alleggerirla e magari mettere, che ne so, 1.650 di rating per la Garnet. E quindi ci sarebbero solamente i team, cioè, ad esempio, noi magari saliremmo in Garnet, se fosse 1.650 magari dalla prossima settimana, e saremmo comunque i più scarsi, però ci dovremmo vedere noi, che adesso siamo undicesimi, no, decimi, contro i primi. Quindi noi saremo i più scarsi e loro i più forti, però nel senso c'è molto più equilibrio, perché comunque non potremmo mai vincere. Però, né in guerra, né in evento, ma bene o male, nel senso non c'è tutta questa differenza. Quindi, un team che ha 1.650 di rating minimo, vuol dire che, nel senso, secondo me, è una cosa necessaria. Quindi staremo a vedere, probabilmente già domani si vedrà, se metteranno questa lega Garnet, che io spero è da tempo che serve, oppure queste leghe diamante probabilmente parallele, come dicevamo sul forum. Ultima cosa, per quanto riguarda la season, sono arrivato alla zaffiro di Sage, quindi ho preso appena, vediamo subito, la zaffiro, sì, infatti, e mi rimangono 500 sigilli, e praticamente per finire il secondo drago, quindi arrivare all'asmeraldo, mi mancano 7.500, compresi questi 500 che ho, sarebbero 8.000 meno 500, 7.5, che devo dividere in due eventi, quindi sono 3.700 ad evento, non dovrò neanche uccidermi troppo ad aprire casse, senza contare che ho comunque casse bronzo in abbondanza, ma vedremo. Per quanto riguarda i rubini, sono arrivato più o meno a quanto volevo arrivare, volevo cercare di finire la season con 200.000, bene o male, adesso in due eventi ne guadagnerò anche, che so, 16.000, 17.000, ne spenderò altrettante, quindi più o meno rimarrò più o meno uguale, forse andrò un po' sotto, ma insomma, va bene, diciamo quell'obiettivo è raggiunto, almeno partiremo per la prossima season già molto molto ben corazzati. Bene, direi che per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!